Interessante che si chiama tra l'altro Bologna in migliaia contro il Green Pass Voglio vedere che cazzo ci abbiamo di bello Sono le 23.21 quindi l'orario c'è, i bambini a quest'ora sono andati a nanna Io posso scancherare come un pazzo furioso Quindi è il momento delle cose serie A Bologna ci sono tanti pazzi mi dicono della regia Sì io sono di Bologna e la regia conferma che Bologna è piena di pazzi Non ti smentirò assolutamente questa cosa qui Ci sono i Daft Punk in live Proprio loro, grazie per il giro Il sito più insulso di informazione in Italia Ma perché? Poverino, ma non è vero Scusate, volevo essere io a fare una dichiarazione Scusa, scusate signori, volevo essere io a fare una dichiarazione Potete per cortesia scostarvi dall'inquadratura Vorrei essere io a parlare a questi servi del potere Puoi essere anche io a partaide Questa piastra è qua per l'unità del paese Contro coloro i quali vogliono dividerci Ma chi? Ma chi vuole dividervi? Contro coloro i quali vogliono creare dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie Z Ma che cazzo stai dicendo? Ma chi cazzo vuole dividervi? Ecco subito che mi sale l'embolo Ma chi cazzo ti vuole dividere? È come dire che non vogliamo dividere gente che ha la patente da gente che non ce l'ha Tutti hanno il diritto di guidare la macchina Perché solo chi ha la patente? Io non ho la patente perché sono un cittadino di serie Z Ma che cazzo c'entra? Noi siamo qui perché questa cosa non la possiamo permettere Ah micchia allora se una manica di gente non permette una cosa Micchia oh ci fermiamo tutti e ascoltiamo eh Draghi draghi papaduro Ma povero draghi perché è tutta questa cattiva contro draghi 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 papaduro Cacciamolo fuori Cacciamolo fuori dalla piazza Oddio che cos'è questo Che cos'è questo sguardo? Che cos'è questo sguardo? Vic grazie me lo sa benutero amate patino Grazie Vic Cos'è questo sguardo? Sembra il marito della Befana Andre dovresti fare la reaction di barbascura sui terrapiattisti Già fatta Già fatta Che carino patatino Grazie mille patatino che carino Grazie Grazie patatino già fatta Il carino Lei è un servo Ci dirà che Lei è un servo Siamo delle berbe I ragazzi della libertà Tu dirai che siamo delle berbe Un fascista Anzi un nazista Si cose a caso E qui che da sardo mi trasformò in veneto E mi sale l'embolo E comincio a bestemmiare Esatto Lei è un fascista Anzi un nazista Anzi un comunista Anzi Lei è uno schiavista Anzi Parole Parole a caso Lei è un fascista Anzi un nazista Parole Parole random usate a cazzo di cane senza senso Un nazo globalista Un nazo Non un nazi Un nazo Un nazo globalista Perché sono i nazosti Non so se lo sapevate Pappere Ma in realtà Nella vecchia Nel ventennio C'erano i nazosti I famosi nazosti Non li conoscevate? Le truppe nazoste No? Strano perché si studia A scuola Madonna senta Grazie per le ciste Ma lì no Signori Signori Sotto dittatura Sotto dittatura Ma sciocci Ben ben Vichia signora Ma quanto cazzo Bolognais Lei Signore Ricordatevi Che il tortellino Va in brodo Chi fa il tortellino Con la panna Noi lo prendiamo E lo impichiamo A testa in giù Te capè Testi Allora Te capè Tortellino Solo con la panna Noi Con il ragù L'ammazziamo Guarda che gli è partito Un Bolognais Sembravi quello di Carce Sono di Bologna Gli è partito Un Bolognais Incredibile A parte quello Ma poi così Voglio dire Ricordate che la dittatura Nasce solo se il popolo Vuole vivere sotto dittatura Andrei tu che macchina hai? Ho una punto bianca Badatino Grazie per l'euro Cioè mi piace Perché queste persone Millantano una dittatura Però sono in piazza A protestare La famosa dittatura Che permette alla gente Di protestare in piazza Solo se il popolo Vuole vivere sotto dittatura Sotto dittatura Sentendo queste minchiate Un costituzionalista Si è rivoltato Nella tomba Ma basta anche più di uno Grazie per il cerco Voi volete la dittatura? Volete essere schiore Di questo perere? Ma perché c'è Bill Gates? Ma basta Cazzo se avessi fatto Il bet oggi Ma basciate stare Bill Gates Grazie per l'euro Ma basta Basta sto cazzo Di Bill Gates Ma non è possibile Che lo mettono Sempre dappertutto Facciamo un attuale Su noi vaccini Le cui sanitarie Si vengono la produzione Di noi potremmo ridurre La polazione Sì ma perché Ragazzi Dice ma porca puttana Veramente Mi fa venire l'embolo Sta cosa È quello che ho detto Un'altra volta Hai tolto la sub alert No che non ho tolto La sub alert Scusami Come avrei fatto No Certo la sub alert La tengo In che senso scusami Come fa Scusa un attimo Mi fa venire il dubbio Scusa un attimo È qua Ma no C'è È lì Mi hai fatto un colpo No C'è È lì È lì Se hai bagato Twitch No no Io l'ho vista Io dalla mia live La vedo Dalla mia live La vedo Quindi c'è Cioè scusa un attimo Porca puttana Questo è il classico discorso In cui una persona Prende una frase La estranea dal contesto E dopo la usa Porca troia No Quello che voleva dire Bill Gates Come ho detto Anche l'altra volta Dopo quasi tre anni Sto iniziando a tornare A camminare Beh sono contento Grazie per la compagnia Che fai a tutte noi Papere armate tre Che carino malatino Grazie per l'euro L'euro credo Nessuno l'ho visto bene Oddio I cinque Non l'ho visto Scusami I cinque Credo fossero ragazze Mille 25 Ero malatino Quello che voleva dire Bill Gates Era semplicemente che In una popolazione Dove la salute È più alta Dove i figli Si vaccinano Dove semplicemente C'è E niente Non riesco a Che c'è Giomo Che hai fatto Che in una popolazione Dove i figli Sono vaccinati È più facile Che muoiano Meno figli E quindi Le famiglie Facciano un numero Di figli inferiori È tutto qui Quello che stavo dicendo Porca puttana Devo sempre vendere In mezzo Il nazismo No raga Però dai Non si può guardare un video Dove uno paragona Sta cosa al nazismo Ma che cazzo C'entra L'espansione Dei territori Tedeschi E l'espansione Del popolo tedesco Con il Green Pass Ma che cazzo Ma che cazzo c'entra Che sono trovati dentro qualcosa Più grande di loro E si sono risvegliati dopo dieci anni Dicendo che cazzo combinato Cosa ho sbagliato Certo tranne per il fatto Che il baffetto è stato votato Non per dire Alcuni di noi Alcuni di noi si sono vaccinati Altri non vogliono vaccinarsi Devono avere la libertà Di poter farlo E di poterlo scegliere No Perché se tu non ti vaccini Per motivi assurdi Come Bill Gates Il 5G E altre minchiate Non hai il diritto Di andare in mezzo Della gente Visto che puoi infettarli Se vuoi fare il cazzo Che vuoi Ti fai l'eremita In montagna Vaccinarsi Non significa Immunizzarsi Il virus Secondo loro Finanziando l'OMS Ne hai il subdolo controllo Giustamente Grazie per il Ciro Grazie mille Può contagiarsi Sì ma chi è vaccinato Ha minore probabilità Di contagiare gli altri È questo lo scopo Del vaccino No Non è giusto Raga Non è giusto Perché se tu vuoi andare In un luogo pubblico Dove c'è della gente Tu rendi conto A quelle persone Del tuo stato di salute RG grazie per i due mesi Di sab Siloso Grazie per la sab Benvenuti ventorali Traiamo per armate Padatini Plò Grazie mille Per i mille Cir Padatino Grazie mille Di cuore Per i mille Grazie mille Per i mille Cir Padatino Grazie di cuore No ragazzi Se voi Volete andare In mezzo A della gente In un posto Pubblico Con delle persone Voi dovete Render conto A quelle persone Del vostro stato Di salute Se voi Siete ammalati Di un virus Pericoloso Non potete andare In mezzo A della gente Se voi Non siete vaccinati E non avete fatto Il tampone Avete un rischio Più alto Di poter essere Portatori sani E di infettare Gli altri Quindi no Non avete il diritto Come uno vaccinato Di andare in mezzo A della gente Se vuoi farti I cazzi tuoi Non ti interessa Vaccinarti E farti i tamponi Ti fai a farlo Le remite In montagna E sei a posto Perché fino a Prova Contrare In una società Si rende conto Agli altri Delle proprie azioni Punto E basta Come se la gente Potesse fumare Nei locali chiusi E dire Ma dov'è il mio diritto Di fumare Non ce l'hai Perché rischi Di essere un pericolo Per gli altri E basta Questo Green Pass Che si vuole andare A mettere in piedi Non è a tutela Della popolazione Veramente si È proprio a quello Che serve È a tutela Della gente Non è a tutela Della salute pubblica No veramente si È proprio A quello che serve Tu vuoi vaccinare Vaccinati Non ti vaccinare Va bene tutto Siamo sempre stato Un popolo libero Cosa ci stanno facendo Siamo sempre stato Un popolo libero Vuoi guidare senza patente Guida senza patente Io credo che Green Pass Discrimini molto le persone Se non sei vaccinato Non puoi fare niente Neanche lavorare Io sono pro vaccini Ma non credo che Il Green Pass Sia una misura corretta Io sono vaccinato E farò la terza dose Ma qui si esagera Perdonami Andre Ma questo è quello che penso Guarda che tu hai il diritto Anche i vaccinati Possono infettare Certo Un abbraccio Non facciamo guerre Per queste cose No ma guarda che tu hai il diritto Di pensare quello che vuoi Siamo un paese libero Grazie per i cheer Certo è vero che i vaccinati Possono infettare Ma hanno una probabilità Minima di farlo E quindi c'è una differenza C'è una differenza Chi è vaccinato Ha una probabilità minima Di infettare gli altri A differenza Di chi non è vaccinato E questa è una grossa differenza Come chi è vaccinato Sì Probabilità minore Probabilità minima Comunque Comunque c'è una differenza Ragazzi C'è una differenza Come dire Queste persone Vogliono guidare Senza patente Perché dicono Ma io anche senza patente So guidare Perché uno che ha la patente Può guidare o no Perché uno che ha la patente Ha imparato a guidare Quasi sicuramente Il meglio di te Garcel Grazie per il servizio di risalma Non trovi per amare Il palatino È come uno che vuole fumare In un ristorante No Perché tu Non puoi fumare In un ristorante Perché dai fastidio Agli altri Qui c'è Un virus Pericoloso Una pandemia mondiale Con un virus Che sta ammazzando Delle persone Noi non possiamo Stare a sentire Della gente Che mette i cartelloni Di Bill Gates Ma ragazzi Ma oh Noi non possiamo Stare a sentire Della gente Che mi parla Del 5G Dei feti E di altre cagate Perché questa gente qua Non sa Non vuole sapere Non vuole informarsi Lo scopo della Repubblica È quello di preservare La popolazione Punto Se tu Non vuoi Non ti vuoi vaccinare Non ti vuoi fare i tamponi Non vai In mezzo alla gente Perché non puoi far correre Agli altri Il rischio Di infettarli Fine Se io vado Con mia nonna Al ristorante E tu sei al tavolo Di fianco Io che cazzo ne so Che se tu sei un portatore sano Sei vaccinato o no È giusto Che tu entrando Ed entrando in contatto Con altre persone Magari fragili Immunodepresse Ti premuri Di stare attento Anche agli altri Non si può pensarci Di fare solamente I cazzi propri Nella vita Perché esistono anche Altre persone Intorno a noi Perché è diventata La Nord Corea In questo paese Eh Sì vabbè Boom Sì zio Ma vai Affanculo Ma Se eri in Nord Corea Te avevano già fucilato In piazza Sì E boom Grazie Alle bugie Alle bugie Perché sono nostre Le bugie Sertere Grazie mille Per i tre mesi di summit Trovate per abate Baratino Staghi Staghi Affanculo Questa gente Non ha la minima idea Di cosa sia La dittatura Ragazzi Se lo sapesse Cazziamolo fuori Ma chi Il carino Ma perché ce l'hanno con lui Ma se lei è il porto carino Lei è il porto carino Sì questa signora lo sa che lei è inquietante come la merda Vero Lei è un ser Lei è un ser Il tifo e la lebra Sono contagiosa Penso di aver già capito chi c'è in questa piazza Ma Lo sai che io vado Tre anni fa l'antitetanica Non mi chiamare lo mazzo Se hai un briciolo di umanità Potresti ancora comprendere Che cosa Qual è la frase Mi ha fatto cattoli E ti do un suggerimento Se mi permetti Non fermarti Agli apparecchi Giusto Sventola i cartelloni con Bill Gates Pensa con la tua testa Ah Bill Ragiona con la tua testa E non con le parole del tuo editore Ma scusa Voi ragionate con i post di Facebook Quindi non riesco a vedere tantissimo la differenza Voglio dire Voi ragionate con i siti complottisti Quindi Bravo Tanto fa quel cazzo che vuole Questo maledetto Fa quel cazzo che vuole Daimu Grazie mille per la sabbia Nutra e per l'armate Palatino Diplo Grazie mille per altri Mille cheer Diplo Grazie mille di cuore per i mille cheer Se è troppo carino Grazie veramente Mille di cuore Cioè Fammi capire Questo Lei si incazza perché lui fa quello che vuole Però loro sono in piazza da protestare Per fare quello che vogliono Va bene Mi sembra giusto Voi scriverete Assembramenti di Dino Musk Scriverete questo Scriverete Assembramenti di gente che non E migliaia contro il Green Pass Quindi in realtà Non vuole accettare questa forma di Politica Io ho un amico carabiniere Mi ha detto Che dietro c'è Un disegno Io ho un amico carabiniere Mi ha detto che dietro C'è un disegno Io signoro Ho mio cugino Che lavora all'OMS E mi ha detto Che in realtà Non c'è nessun disegno Ragionano con la tasca piena Non pensi Vabbè a ragionare Con godeste persone Io ho un carabiniere amico Che mi ha detto Che c'è un piano dietro Sì sì Ma lo conosco Bioblu Bioblu sono un sito di pazzoidi Lo conosco Cioè voglio dire Bioblu sono un sito di Marti Voglio dire Cioè li conosco benissimo Quindi Allora Adesso sapete cosa facciamo Adesso direi Che ci facciamo Un po' Di Neurodrome Sempre sul solito argomento Buonasera Andre Volevo solo dirti Che ti ho conosciuto Tramite TikTok E non avrei mai immaginato Di finire Col seguirti su Twitch Non mi sono mai piaciute le live Ma tu sei l'unico Che mi intrattiene E sono veramente felice Di essere una papera armata Che carino Grazie mille Paratino Grazie mille Paratino Che carino Ma non è la stessa cosa Andre con il Green Pass Non stoppi i contagi Non mette al sicuro nessuno Nel senso che ci chiudiamo In casa Con o senza vaccino Ma fossimo un'attività commerciale Avantaggiando le grandi aziende Io un'azienda Te la devo dare Tutti mi sono dovuto Di cacciare gente Certo Ma il tuo sfogo È licitissimo Il tuo sfogo È licitissimo Ed è giusto Che le persone Si sfoghino Della propria situazione Quindi hai assolutamente Ragione a sfogarti C'è però un ma Ma Se noi fossimo Un paese di persone razionali Saremmo tutti quanti vaccinati Il Green Pass Non ci sarebbe Il Green Pass Sai perché esiste? Perché la gente Non si vuole vaccinare Se noi fossimo tutti quanti vaccinati Il Green Pass Non ci sarebbe E quindi È proprio questo Il problema È tutto qui il discorso Siamo vaccinati Al 92% Appena ci vaccineremo Tutti Vedrai che lo tolgono Alcuni credono che Draghi Sia un rettiliano Ma di che parliamo? Esatto Grazie per il cipollatino Siamo chiamati Sommati voglio dire Cioè ragazzi Il punto è tutto lì Perché Perché Adesso Tu Vai a chiedere in giro Perché la gente Non si vaccina Chiedilo No perché Io ho fatto un test Io ho fatto un test ragazzi Io ho chiesto alla gente Perché non si vaccina Non ce n'è Uno E dico Uno Che mi ha dato Una risposta sensata Non ce n'è uno ragazzi Non ce n'è uno Cioè Io ho Parli Io ho Per quello che faccio Ho parlato con tanti Novax O gente che non si vuole vaccinare Non ne ho Trovato uno Che mi desse Una risposta sensata Ragazzi Cioè Tu capisci che Quando non c'è Una vera motivazione Per non vaccinarsi No La paura non è sensata La paura è irrazionale La paura è irrazionale Non è sensata La paura è Una cosa irrazionale Della mente Non è logica Di Grazie mille Per altri Mille cir Patatino Grazie mille di cuore Mi potrei quasi commuovere Grazie mille Per altri Mille cir Patatino Grazie veramente Grazie mille di cuore Patatino Quindi ragazzi Cioè Allora Cosa dobbiamo fare Perché la gente Non si vaccina Perché la gente Non si vaccina Ragazzi Allora Io ho sentito E causa Un autismo Ed è una cagata Una buffala Già smentita Terromax Grazie per la sab Venuto Per la matri Patatino Ho sentito È un siero sperimentale Ed è una stronzata Il 5G Ed è una stronzata Ci sono difetti morti Ed è una stronzata Bill Gates Ed è una stronzata C'è l'ossino di grafene Ed è una stronzata Ragazzi Non c'è un motivo Non c'è un motivo Cioè questa gente Non protesta in piazza Per un qualcosa di sensato Protesta in piazza Per una cosa Che non ha senso Quindi come si fa A ascoltare sta gente Ragazzi Come si fa A ascoltare sta gente Come si fa A ascoltare uno Che prende un discorso Di Bill Gates Estraniandolo dal contesto E lo usa come motivazione Ragazzi Non si può Non si può Ragazzi La salute pubblica È più importante Della pazzia della gente Cioè È tutto lì il discorso Cioè Ragazzi nel mondo In Italia Ci sono anche persone Che sono immunodepresse Che non possono farsi il vaccino Che se entrano in contatto Con uno Infetto Muoiono ragazzi Cioè È ora che È tempo che usiamo La logica È tempo che nel mondo Cominciamo a smettere Di pensare con il cuore E cominciamo a pensare Con il cervello ragazzi Con il cervello Cioè È tutto lì il discorso È tutto lì il discorso Ci vuole tempo Per fare il vaccino Ma il vaccino È già stato fatto Gabbo Grazie per i tre mesi di risalbo E' già stato fatto L'ha già testato Ragazzi Cioè Non esiste un motivo reale Per non farsi il vaccino Al giorno d'oggi Non esiste Non esiste Ciao scusa La domanda è un po' lunga Un oggetto galleggia Per il rapporto Della massa Dell'acqua spostata E la massa Dell'oggetto stesso Potrebbe essere possibile Che in futuro Si scoprirà qualcosa Che galleggia Per un altro motivo E non per questo Bisognerebbe Comunque nuove leggi della fisica Che contraddicono Quelle di adesso O le infrangono Guarda Alcune leggi Non sono contraddicibili Perché alcune leggi Sono già provate Ciò che è dimostrato Non può essere contraddetto Perché 2 più 2 fa 4 Fine Non può essere contraddetto Che nel futuro Si scopriranno nuove leggi della fisica Che implementeranno Quelle vecchie È possibile Però è tutto un ma È tutto un forse Uno potrebbe essere allergico A componenti del vaccino Ma quello è un altro discorso Quello è uno Non può Non vuole C'è differenza tra Non posso farmelo Da non voglio E quello è il punto Salve a tutti ragazzi E ragazze Oggi mi occuperò Di un argomento A dir poco spinoso Ovvero quello dei vaccini Come sapete Da qualche anno Questa gente O la maggior parte Alla quinta elementare Credono alla cagate Perché sono più comprensibili Per loro Rispetto agli studi scientifici Ma quello Ma sì Ma a parte il fatto Che esiste proprio Grazie Prisci Battillo A parte che esiste proprio Uno studio psicologico Fatto che dimostra Che alle persone Piacciono i complotti Perché danno Spiegazioni semplici A temi complessi Cioè alle persone Piacciono queste cose qui DPLC DPLC Grazie per aver gifiato Due sub A latino Grazie grazie Che carino che sei Grazie mille DPLC Grazie per le due sub Grazie grazie di nuovo Cioè ragazzi È proprio dimostrato Che la gente Vuole avere Spiegazioni semplici A temi complessi Perché le spiegazioni complesse Non le capiscono E la gente Quando non capisce È pericolosa ragazzi Quando la gente Non capisce È molto pericolosa Perché In nome dell'ignoranza Le persone hanno fatto Delle cose orribili Nel mondo ragazzi Nel nome dell'ignoranza Sono state messe Sulle pire delle donne Accusate di stregoneria Sono state fatte guerre Ragazzi E ancora peggio Dell'ignoranza C'è l'illusione Della conoscenza Come diceva Stephen Hawking La cosa più pericolosa Non è l'ignoranza È l'illusione Della conoscenza Ragazzi E queste persone Sono convinte Di essere Illuminati Cerebrali Credono D'aver avuto Un'illuminazione Che li ha portati A capire la verità E questa ragazzi È la cosa più Pericolosa Che esista Pericolosa Che esista Perché le persone Convinte Di aver ragione Quando hanno torto Sono le più Fanatiche Fanatiche E la gente Vuole avere Risposte semplici A temi complessi E questo si rispecchia Perfettamente Anche con la religione Con la religione Chi ha creato L'universo Dio Risposta semplice A tema complesso Vai a dirgli uno Che è stato Una fluttuazione Quantistica D'energia Che ha assunto Un valore più ampio E ha creato Un nuovo tessuto Spazio Temporale Non capirà Un cazzo Ti dirà Questa cosa Non ha senso È stato Dio Cioè ragazzi Cioè Le persone sono così Le persone sono così Cioè chi ha creato Il virus Vagli a rispondere È un virus Che probabilmente Ha mutato Perché nel corso Della natura In seguito A tante volte Che muta un virus Può anche mutare E diventare Quello che attualmente Il virus No Diranno Complotto Laboratorio Creato artificialmente E le persone Ci credono Ragazzi Ci credono Perché è una risposta Semplice Che il loro cervello Riesce a capire E quindi L'apprezzano di più E si convincono Di questo Beh anche Abbiamo fatto Uno studio psicologico Su questa cosa qui In Italia E nel mondo Si è diffusa Questa bufala Secondo la quale I vaccini Provocherebbero L'autismo Che ho già spiegato Su tiktok Che è una cagata Ho già spiegato Su tiktok Che è una cagata Non so se lo sapete Ragazzi La cagata Di questa cosa qui C'è stato Un medico inglese Un medico inglese Che ha messo in giro Questa bufala Fino anni 90 Perché voleva Smerdare Il vaccino Usato generalmente Per vendere Il suo vaccino Questa persona Ha sparato Questa bufala Dei vaccini Che creano autismo Perché voleva Gettare merda Sui vecchi vaccini E vendere il suo Che stava brevettando Furbacchione E il problema È che questa stronzata Nonostante sia stata Già smentita La gente Continua a crederci La gente Continua a crederci Nonostante sia Già smentita Questa cosa qui Come è stato ribadito Più volte però Non c'è alcuna Evidenza scientifica A sostegno Di questa tesi Neanche una Ma nonostante ciò In moltissimi Ho visto un documentario Di barba scura Sono contento Che anche lui ne parli Continuano a portare avanti Questa assurda crociata A rimetterci purtroppo Sono i bambini Infatti sono fin troppi I casi di bambini morti Perché non erano stati vaccinati Inoltre quest'anno In Toscana C'è stata anche Un'epidemia di morbillo Bello tornare al 1940 Con l'epidemia di morbillo Un'epidemia assurda Considerando che siamo Nel 2017 Che metodi per prevenirla Bello Epidemia di morbillo Un vaccino Inizia a guidare camion Scusate Vecchia battuta C'erano tutti In passato avremmo pagato oro Per avere un vaccino Adesso invece Li rifiutiamo Anche politici E personaggi famosi Si sono schierati Contro i vaccini Come Donald Trump Robert De Niro E Jim Carrey Insomma Non parliamo di quattro gatti Ma di un movimento vastissimo E in continua crescita Io però ve lo dico subito In questo video Non voglio portare prove Voglio soltanto Leggervi qualche loro Commento idiota Giusto per farvi capire Un attimo Con chi c'ha Ma che fa Voglio fare un po' Come ho fatto con i terrapiattisti Inizialmente faccio un video In cui vi faccio vedere Soltanto quanto sono idioti Così loro si incazzano Beh i terrapiattisti Vengono qui E mi riempiono di insulti A quel punto però Mi incazzo pure io E mi viene voglia Di fare un documentario In cui li demolisco Proprio come ho fatto Con i terrapiattisti Quindi antivaccinisti Vi avverto Più mi insulterete E più saranno cazzi vostri Cominciamo subito Eccoci Micchia È al vetriolo oggi Neurodrom Micchia Al vetriolo C'è le solite Vaccini qua Vaccini là Ancora non hanno capito Che è tutta una farsa Cioè Così loro possono inocularci Le sostanze Per controllare Le nostre menti Ecco Figurate se non veniva fuori Farci ammalare a comando Ah micchia Io dico noi vaccini Senta signor Gates Per alcuni laboratori italiani Nel caso Li faccia ammalare Durante Natale Pasquetta E Ferragosto Perché magari Alcuni lavoratori italiani Vorrebbero stare a casa Malati Malattia Magari a Natale A Ferragosto Perché sa Che loro vorrebbero stare Con le loro famiglie Ci sono tanti lavoratori italiani Che lavorano anche A Natale A Ferragosto Perché per svolgere un servizio Quindi per cortesia Signor Gates La faccia ammalare In quel periodo lì Che è comodo anche Questi qua ci mettono Le sostanze Per controllarci la mente Dentro i vaccini Le famose sostanze Per controllarci la mente Non si sa quali Non si sa come Così a caso Capito Ma te c'hai poco da controllare Dentro la mente Che ci sarà un cazzo Che puoi controllare là dentro La malattia Sono una punizione divina Per i nostri Tra i peccati Vaccinarsi E contro natura Micchia Qui stiamo andando Proprio Qui stiamo andando Proprio Oltre Qui siamo Oltre Cioè la malattia È una punizione divina Per i nostri peccati Vaccinarsi E contro natura Micchia Stiamo andando Oltre qua Allora I vaccini Mettono sostanze Per indurre i bambini A mangiare carne Micchia Ma allora Si vede che a me Ne hanno fatti parecchi A me ne hanno fatti parecchi Perché io sono un fan Delle fiorentine Quindi cazzo A me i vaccini Mi hanno fatto Una gran voglia Di pistecazza Per questo che cazzo Dice E per indurne Al materialismo Senta come si permette Il mio computer è bellissimo Non mi rompe i coglioni Il mio computer lo amo Steiner ci aveva avvisato Un secolo fa Esatto Gli scienziati Sono demoni Che vogliono rubarci L'anima Che cazzo è Gli scienziati Sono Shang Tsung Che cazzo è Vai a fare l'esame Di chimica organica Vedi il prof Che ti guarda e fa Your soul is by Fatality Che cazzo Sapete perché questo qua Detto sta cosa Perché ci hanno rubato L'anima Perché sto Steiner Che evidentemente Lui segue insieme A tanta altra gente Sosteneva che attraverso I vaccini I dottori Ai giorni nostri Avrebbero potuto rubarci L'anima Capito Ah cioè i vaccini Rubano l'anima Sto vaccino Ci fa diventare Come degli Gli spiriti Delle tenebre Sono in mezzo a noi Sì li ho visti I terrapiattisti Non c'è bisogno Gli ho visti Gli ho visti Di noto Ci ho anche parlato Io che sono Asperger Che fa parte Dell'autismo Sai quante volte Mi son sentito dire Che lo sono a causa Dei vaccini Mannaggia al cazzo La sai che il vaccino Contro il vaiolo Secondo la chiesa Ti trasformava in mucca Sì guarda Perfettamente Quando ti dice così Digli quello che ho detto io È la prova inconfuttabile Che è una balla Grazie per il circo Voglio dire Il vaccino Per il vaiolo Ti trasformava in mucca Ma dai Ma cos'è questa stronzata Scusate Secondo te Quanto si deve essere grasso Per essere antiproiettile Sono ancora gli effetti Ah sei un grande Ti stimo Molto ti ho scritto Su insta un bacio Non credo ci esista Una massa sufficiente Per bloccare un proiettile Con della massa grassa Dovresti essere talmente grasso Che non saresti vivo Grazie per il circo Gli spiriti delle tenebre Sono in mezzo a noi Sono qua Dobbiamo restare in guardia In modo da accorgersi Quando li incontriamo In modo da comprendere Dove si trovano Gli automici Toglie tutta quanta La spiritualità Neanche sotto LSD Dire una cosa del genere Siete quanto potasse Ambriaco questo E questi che gli danno retta In tanti gli danno retta Mamma mia Quanto mi fanno incazzare Questo qua invece Ha un articolo Su David Rockefeller Che è morto a 101 anni Uno degli uomini Più potenti del pianeta E questa pagina Che si chiama proprio Autismo e vaccini Ha scritto Era un criminale Che ha danneggiato Milioni di bambini al mondo I commenti sotto sono stati Di lui si dice Essere stato Un non umano Un non umano Stranamente Quelli ricchi Sono sempre alieni Proveniente da un altro pianeta E te pareva Che sono alieni Ma perché Sono sempre alieni Ma perché Gli uomini potenti E i politici Sono sempre Nei cazzo di alieni Lo sguardo È veramente demoniaco A me lo sguardo Sembra di uno Che appena Ha tirato una scoreggia Dopo che non faceva Flatulenze Da tre settimane Questo sguardo qui È proprio il tipico Sguardo di uno Che ha appena Ammollato una scoreggia Dopo tre settimane Che non cagava Io te lo dico Viso da demone Viso da demone Ma come Sembra George Tepol L'avvocato degli aristogatti Questa qua ha chiesto Ma perché non muoiono prima Arrivano tutti dopo i 90 anni Ma sai quando sei ricco Perché non ci sono vaccini Ah è quello il motivo Questo qua è arrivato a 100 anni Perché non si era vaccinato Forse sono convinti Delle puttanate Che dicono Ma come cazzo fa E guardate Questa mi fa incazzare Come la bestia Questa qua hanno fatto Pure i braccialetti Contro i vaccini Perché loro Vanno far vedere Sono orgogliosi Che loro non vaccino Quanto so cojoni Se vantano no E quindi hanno fatto il braccialetto Che dice che Il prezzo sarà di 3 euro e 50 A bracciale Micchia zia 3 euro e 50 A bracciale Micchia hai capito Te ci hai aperto un business Tu sta perculata Il minimo dell'ordine Sono 100 pezzi Ah micchia hai capito Se zia Te lo frego un cazzo Del dai Su Vaffanculo 3 euro e 50 A bracciale Il minimo dell'ordine È 100 pezzi Ma vaffanculo Ma se Dai Te stai lucrando Altro che Novax Si è tutta la gente Che aveva ordinato Due grazie No non hai capito Due grazie Minimo 100 pezzi Ci sto per 4 Noi 4 Per me 3 No Non hai capito Minimo 100 pezzi Vedi che non capisco E hanno scritto Che il ricavato Sarà devoluto Per accogliere in Italia Andrew Wakefield Guarda ci credo sicuramente E sapete chi è sto Andrew Wakefield È proprio colui che ha creato tutta sta puttanata Andrew Wakefield è un ex medico e chirurgo britannico Conosciuto principalmente per la pubblicazione Ah è lui E quello di cui parlavo prima E scientifica fraudolenta In cui sosteneva la correlazione Oggi smentita Tra il vaccino trivalente E la comparsa di autismo Capito Oggi è stata smentita Lo studio è stato ritirato Quindi non voleva in cazzo Era carta a straccia E poi sentite Si scoprì che lui Era stato pagato Per alterare i risultati Al fine di supportare Una serie di cause giudiziarie Contro le case farmaceutiche Che lui c'erlova fatto causa E le case farmaceutiche Falsificando i dati Capito Di queste ricerche Perché Aveva brevettato Un sistema di vaccini separato Per sostituire quello trivalente Eh ma guarda caso Eh Come sono i mezzi soldi E capito Lui si era fatto il vaccino suo Ha cercato di sputtanare Quegli ufficiali In modo che poi avrebbe venduto di sua Capito La gente che ancora oggi Che è da retta Sto Andrew Wakefield Questi volevano addirittura In vita in Italia Ma come fa che Per più allaccarci in culo Quelli di invitare La cosa bella ragazzi Che io mi chiedo Come sia possibile Che quando una persona Ha le prove Che una cosa è smentita Continui a crederci No non è vero In realtà lo so Perché è stato anche qui C'è stato uno studio psicologico Molto famoso e dimostrato Per il quale Per il quale Le persone Una volta che credono Che sono convinte Di una notizia Anche se scoprono Che è finta Continuano a crederci Ragazzi non sto scherzando Hanno fatto uno studio psicologico Su 10.000 persone Più di 2-3.000 Non mi ricordo quanto Nonostante avessero saputo Che la notizia In cui credevano Era fake Continuavano a crederci Mamma mia Quanto me fanno incazzare Perché gli piaceva La notizia allora Questo che invece Il motivo si sa È una cosa Della nostra mente È una cosa Del nostro cervello Il nostro cervello È programmato Per avere una visione Coerente della realtà Il nostro cervello È programmato Che quando tu Hai un'idea Hai un'idea di qualcosa Quella idea rimane Radicata nella tua mente E sarà difficilissima Rimuoverla E in questo effetto È tanto maggiore Quanto questa idea Viene radicata Da bambini Ora avete capito Perché si fa fare I bambini Il catechismo Perché se Radichi loro L'idea Di una divinità Da bambini Sarà molto più difficile Togliere quell'idea Quando saranno adulti Per una cosa Psicologica È un blog Che si chiama Sci e chimiche Informazione corretta Oh mio dio Sci e chimiche Informazione corretta Per l'amor di Dio Sicuramente Guarda già Avete voi Informazione corretta E loro sostengono Che il virus del morbillo Sconfigge il cancro Ma cosa Ma come Ma come è possibile Come cazzo È possibile Che il virus del morbillo Possa sconfiggere Il cancro Ma quale cazzo Di correlazione Ci potrebbe mai essere Tra queste due cose qui Capito Cioè Capito Il morbillo Non lo devo manco Le vado Che sconfiggere il cancro Cosa ho detto Lo dicevo l'altro giorno Ma che dicevi Quando hai detto Quando stavi imbriaco Hai detto Ma come cazzo Si fa a pensare Una cosa Lo sconfiggi Perché muore Beh giusto Volete sapere Perché si chiamano vaccini Perché gli ingredienti principali Sono derivati dai bovini Ma in che senso scusami Cosa vuol dire Mi rega Ma mi butto Da la finestra Ma di speranza Quindi il vaccino È un frullato di fiorentina Cioè Questo è il senso Cosa vuol dire Riavvia patato Se si è bloccato la live Ma cosa vuol dire Scusami Che cazzo vuol dire Quindi il vaccino In realtà è un frullato Di controfiletto Al pepe verde Ah latte vaccino Ti giuro che non c'era nemmeno arrivato Ti giuro che non c'era arrivato Non era arrivata Questa conclusione Come la carne Manzo vidello Infatti anche il latte Derivato dai bovini Sì Ah scusa Non l'avevo letto Ma latte vaccino Non a caso Non a caso E beh Non fanno piega In realtà dovete sapere Che le fiorentine Non sono bistecche ragazzi Sono carne umana Le fanno Con le fiorentine Le donne Le donne fiorentine Ragazzi Secondo voi Perché le fiorentine Si chiamano fiorentine Pensate che siano derivati Da mucche No Le fanno Con le donne fiorentine Questo è un complotto Che non ce lo dicono Lo sapete Perché la mozzarella di bufala Si chiama così Non è fatta con latte È fatta con i testicoli Del bufalo Sono palle di bufalo Schiarita La candeggina Per quelle si chiamano bufala E poi le mozzarella di bufala Sono false Sono una bufala Le mozzarella di bufala Sono delle balle Sono tutte bugie Non sono vere Sono bufale Perché il latte vaccino Si chiama così Perché dentro Ci sono i vaccini Capito Cerchi lo psicologo giusto Sono mentogne Non ce lo dicono Compli il questionario Eh sì Stanno carmi Ma quest'altro invece È uno dei maggiori sostenitori Dei vaccini No E questo qua invece Ha scritto che Questo è stato quello Che ha inventato I primi vaccini Non dà della somiglianza Io credo sia La sua reincarnazione Visto anche l'argomento Che trattano uguale Cioè fammi capire A parte il fatto che Con Coso qui Non ci assomiglia un cazzo A lui Prima di tutto Non ci assomiglia niente Poi scusami Non l'ho capito Se uno tratta Di un argomento È la reincarnazione Questo qua È la reincarnazione De genere Che ha inventato I vaccini Capito Questi proprio Credono ogni puttanata Che gli passa la pavimentata Non è vera Prima di dire Dei stupidi Ai con l'h Ai genitori Genitori Facci piano Guarda quanti bambini Diagnosticati autistici Nel 2016 Solo che nessuno dice niente Perché c'è un giro economico Che fa paura Non ci è lo Classico Non ci è lo Dicono Si capisce appunto Che tu invece Sei stato vaccinato Pure troppo E c'ha ragione Porca Poi questo Gli hanno fatto Doppia reazione Di vaccini Per quello C'è rimasto sotto Mamma mia Gente ignorante Non ci è lo Dicono Una manca Scrive Se ne va in giro A fare i medici I medici studiano Trent'anni Arrivi tu Che c'hai manca La terza media E ci capisci Tu quanto Mi fanno incazzare Ste cose Confonder la genetica Con i vaccini Amica mia Amico mio Scusate Ma questi argomenti Mi fanno troppo incazzare Avete notato Che tutto questo Baccano mediatico Riguardo vaccini simili Si è generato Dopo la morte Di Veronesi La sua anima Dannata Continua ancora A farci del male Ma perché Scusami Ma Il vaccino Al termine Deriva dal fatto Che il vaccino Del vaiolo Era stato fatto Da cellule di mucca Infette da vaiolo Si ma Questo ha senso Che nasce La cosa Che ti ho detto Prima Che ti trasformava In mucca Si ma Questo ha un senso Perché è una spiegazione Scientifica Che il vaccino Per il latte Vaccino Bene Grazie per dire Ma perché Veronesi Continua a perseguir Perseguitarci Scusate Veronesi Ci perseguita La sua anima Riflettete Mi piace Riflettete Dopo questa frase Che è una stronzata Apocalittica Ci metti Riflettete Va bene L'unica cosa Che puoi riflettere È allo specchio Per il resto Non rifletti Un cazzo Merda Se sono uno Streamer simpatico Rompe i coglioni Con i vaccini Perché capito Ci smatano troppo Perché mi fanno Troppo in cazza Settete quante Cogiono Un articolo Che dice Vaccini L'ordine Radiazioni Per i medici Che lo sconsigliano Mi chiedo come Mi hanno detto Che i medici Che sconsigliano I vaccini Verranno radiati E cosa che ha detto Ma decidetevi Prima consigliano Di vaccinare Ora lo sconsigliano Perché porta Reazioni No vabbè Dai Io non lo posso Prendersene a metto Una cosa del genere Se questa è una persona Analfabeta Scusami Perché portano Radiazioni I vaccini Portano Radiazioni Ma cosa Sì ma quella È una cosa diversa Che riguarda L'attacco Che quel virus Farebbe a determinate cellule È una cosa diversa Però sì ho presente Cosa dici Grazie per l'euro No ragazzi Io non so neanche Come commentarla Questa cosa Ragazzi Io non so neanche Come commentarla Questa cosa qui Cioè Io Io non ho parole Ti fai il vaccino Diventi un X-Man Porta E radiazioni C'è star plutonio Dentro al vaccino Capito Non si capisce più niente No che cazzo E tu che non si capisci In cazzo No che non si capisce Più niente Mamma mia Diventi Hulk Se ti fai il vaccino Come stanno un picciato Se i vaccini Prevenissero le malattie Non ti li lascerebbero fare In che senso scusami Il mondo è cattivo Vabbè che il mondo È pieno di stronzi Ma non è che C'è proprio il male Capito Ma che cazzo vuol dire Non ci avranno cura Ci avranno tutti i morti Capito Se li impongono Vuol dire che sono patogeni Punto Sì certo Non quadra il fatto Che da quando abbiamo fatto I vaccini contro il vaiolo Il vaiolo è sparito Però abbiamo 74 like 74 persone Che andrebbero arrestate Vedete quanto Pazza è stato coglione Questo eh Ho appena appreso Della nuova cooperativa Che mi dovrebbe assumere Quindi lui aveva trovato lavoro Che è obbligatorio Che io sia in regola Con la vaccinazione Antitetanica Ma ti ha fatto una risata Cazzo ma è ovvio Scusami Ho appena finito Di parlare Con il tipo Che mi ha contattato A cui ho detto Che mi rifiuto Categoricamente Lui mi ha risposto O antitetanica O niente a lavoro Ma certo È ovvio Ma ti prendi il tetano A lavoro Poi l'assicurazione Ma sei matto Mi sa che mi lasceranno A casa prima del previsto Siamo in piena dittatura Ma siamo in piena Anche per l'antitetanica Perché lo Stato Non mi lascia morire Come dovrebbe essere Giusto che sia Perché lo Stato Non mi lascia Prendere una malattia Infettiva Che mi uccide D'andata dittatura Ma perché poi Ti mi rompe il cazzo Con l'antitetanica Ma invece di essere Siamo in dittatura Perché lo Stato Non vuole che tu muoia Va bene Se ti fa male Con qualcosa di rugginito No Lui doveva Il rivoluzionario L'aveva trovato lavoro E non l'ha accettato Per questa cosa Quanto può essere Stronza Io capisco Ma adesso Anche l'antitetanica È un problema Vabbè C'è veramente Vabbè C'è fatto un piacere C'è dato un lavoro a noi Guarda Poi come vi ho detto Ci sono state anche persone politici Che sono state Contro i vaccini Perché i coglioni Stanno da tutte le parti Poi in Parlamento Caperelli Proprio fanno A gara Chi è più coglione E questo ha detto Scie chimiche dal cielo Che iniettate dentro i nostri bambini Scie chimiche dal cielo Che iniettate dentro i nostri bambini E questo sterminio Oggi assume una valenza legale Per quello che possa valere Da oggi ufficiale I vaccini Causano Cioè dentro i vaccini Ci stanno le scie chimiche Ma questi vanno proprio per mix Ragazzi il ministro No ragazzi Io capisco tutto ragazzi No cioè Dinunciato il ministro No ragazzi Che un ministro Della Repubblica Italiana Dica questa stronzata È inaccettabile Cioè Questo Ragazzi Questo è un ministro Ma questo è un ministro Della Repubblica Snax Grazie per i tre mesi di risabba Intravermi per il mattino Ma ragazzi Ma oh Ma questo è un ministro Della Repubblica Ma che cazzo Ci abbiamo al Parlamento Ma ragazzi Ma Fake news Ma io lo spero Ma lo spero Spero che sia una fake news Perché se no ragazzi Cioè Cazzate I complotti Mischiano poi ogni tanto Veramente guarda Sì vabbè tanto Vabbè che dai 5 stelle Che dicono Che non sono mai nati sulla luna E altre cagate Che muoiono per morbillo Sono sempre meno Rispetto a quelli Che hanno reazioni gravi Post vaccino Ma poi voglio vedere Se dici una cosa del genere Questi dati sono inventati È proprio tufio quello Che dovrà morire Che poi certi vaccini Ti fanno venire La febbre giustamente Ma non è che Ah regà C'è sta gente che muore Veramente per morbillo Nel 2017 Ma rendemose conto De come Sì veramente Io non riesco a capire Come nel 2017 Si possa morire Per il morbillo Ma poverini scienziati Si fanno un culo così All'università Per studiare anni e anni Pino Laschi Grazie per la salve Infatti so che la scienza Ci nasconde anche Che l'uomo è fruggivore Accidenti ragazzi No ci hanno sgamato Ragazzi hanno sgamato Che l'uomo in realtà È fruggivoro Porca troia Era un complotto mondiale Per nasconderlo Siamo fruttariani no Questo è un altro esempio Di quello che la scienza Ci nasconde Giustamente Perché ovviamente Se non è vero Vuol dire che nasconde la verità E sentite quest'altra Io avevo letto Che attraverso i vaccini Ci iniettano microcibi Sì signora Per prendere meglio il 5G È più comodo È più pratico Poi ci danno ragione da soli Sentite questo È vero E altre nanotecnologie Che servono a controllarci Sia mente Che corpo fisico Signora Se controlli la mente Signora Se controlli la mente Controllerai anche il corpo Non è un'entità distinta Ti sei menticato reagire a quel video Che ti ho chiesto reagire Eh dipende Prima Vedo se vale la pena portarlo O no Ma nel caso comunque Questo tempo lo guarderò Grazie per l'euro Cioè mi piace perché La signora comunque La signora Non capisce che il cervello Non è una cosa Separata dal corpo Cioè in poche parole Controlla il cervello E il corpo Quindi tu vuoi andare da una parte Ma il braccio Ti piglia schiaffi Avevo letto anch'io Perché poi si danno ragione Capito Cioè dentro al vaccino Cioè sta al microchip E controlla la mente Ma che vuoi controllare Che tu non c'hai in cazzo Da controllare C'hanno pure Che è il controllo mentale Ma quale controllo mentale Questo qua invece È l'Ercio Non so se lo conoscete No Che è praticamente Una pagina Che fa delle notizie finte Oh ragazzi La gente che crede All'Ercio Però ironica Per ridi Solo un coglione Ci potrebbe credere Questo qua Infatti St'articolo dice Troppi metalli nei vaccini Bambina arrugginisce Dopo il bagnetto Che imbecilli Quelli di Ercio Ma la cosa grave raga È che c'è gente Che ci ha creduto Dai Ma ragazzi Ma non si può essere Così stupidi Ma Cristo Ma come cazzo Vai a prendere seriamente Le notizie di Ercio Ma dai Ma cazzo Ma Si capisce Che è una buffa Invece questo qua Ci ha creduto C'è nessuno sotto Il commentato Guarda che è una pagina satirica Poi i bambini arrugginiscono Beh sì certo Ovvio Mamma mia ragazzi Sto ascoltando dal Tg Che i casi di morbillo In Italia Stanno aumentando in questo anno In maniera esponenziale Portandoci a livelli Di alcuni paesi africa E indovina Perché i casi Stanno aumentando Perché la gente Non si vaccina più Ah ne avete capito Quanto siete stronzi Però ti dice Non essendo un medico Mi chiedo se per caso Ciò non sia per effetto Dei continui incontrollati Sbarchi di ospedi Cioè quindi giustamente Non è che il problema È che la gente Non si vaccina più E i casi di morbillo Aumentano Capito Ma la colpa è di clandestini Non è la colpa vostra Che siete coglioni Che fate vaccini Ai fini Nonostante stiamo In un paese occidentale Ricco Io mi sto ossidando Dovremmo ringraziare Che ci sono i vaccini Ma la colpa è Di stiponi clandestini Capito Se è un giornale serio I miei due figli Hanno avuto il morbillo E ora sono immuni a vita Sì Ma non è stata Una malattia drammatica Sì Forse era meglio Se si vaccinavano Così non soffrivano neanche E non hanno subito conseguenze Sì Ma può portare a conseguenze Il morbillo signora Può portare a cicatrici Sulla pelle Può portare a cicatrici Interne Esattamente come la maggior parte Di noi Che abbiamo avuto la malattia E questo qua giustamente Gli ha detto brava Invece chi non ce l'ha fatta È morto Ora non può venire qua A contestare le cagate Sono clandestino Ah ma guarda Non devi mica dire la bene Ti dira il tipo L'altro mi ricirpa la tina Capito Ma se poi tuo figo mori Perché tu non l'hai vaccinato Ma io che fa Ti fai buttato davvero Dalla finestra Non so se si rendono conto Questi cagli Stanno a daretta A due coglioni Due truffatori E non vaccinano i figli La gente è proprio cogliona Sì ma proprio tanto Nella testa Ma me sto avvelenato oggi Scusatemi Spero che me sto A far avvelenare pure a voi Guarda E poi c'è stata Quella notizia Veramente tremenda Di quella infermiera Che invece le vaccinava i bambini Faceva finta che li vaccinava E poi invece Gettava la fiala Quindi praticamente Tutti sti bambini Non vaccinati E' stata una Questa è ancora peggio Perché sei tu Che decidi per un altro Questa è ancora peggio Io sinceramente Ti farei un processo però Scandalosa E questi qua hanno scritto Auguro ogni bene A questa grande donna Auguro ogni bene A questa donna Che non vuole Che i nostri figli Siano immunizzati Contra un virus Gente con la coscienza Purtroppo sono rimasti pochi Tutto al contrario Il mondo va al contrario Sì peccato Che non ha pensato Di pungerli Con un semplice acco In modo da non scatenare I sospetti Cioè il mondo Al contrario Cioè il mondo va al contrario O criminali Questi li vanno a fare arrestare Sta gente Ha fatto bene Merida tutta la mia stima Questa che ha detto giustamente Non sto d'accordo Perché non si può Violare la volontà Di altre persone Adesso questo Sono d'accordo con lei Ho deciso di vaccino A mi fio Ma infatti E ovviamente L'hanno bloccata Perché giustamente Se uno dice una cosa Contro di loro Ti blocca Ma chi sei tu E decide per mi fio E questo ha detto Violare la vita Di esseri viventi Indifesi invece Giusto Perché sei in questo gruppo Infatti poi l'hanno bannata Eh giustamente Ovviamente Basta che uno dica qualcosa E ti bana Non lo fa una piega Permessa di contraddire L'hanno bannata Questo simbolo Guardi che non sta più Nel gruppo Poi fortunatamente Hanno cominciato a dire Sapete che c'è Se tu non vaccini tu vivo A scuola Non ci vieni più Giustamente Questo ha detto Io contrario al 100% Siamo pazzi È giusto che mio figlio Non vaccinato Possa infettare Il figlio di altri Signora Io lo dico personalmente Se mio figlio Per qualche ragione Non potesse Non potesse vaccinarsi Perché magari Immunodepresso E a scuola Mio figlio S'ammala Perché il suo Non vaccinato L'ha infettato Signora Io vengo da lei E poi giochiamo A briscola E per giocare a briscola Immagino che Avete capito Cosa intendo In Italia da anni C'è la dolce dittatura La dolce dittatura Fate diventare Cavi i bambini Eh già I figli dei medici Solitamente non vengono Vaccinati Ma che cazzo stia di Ma come Ma sapete cosa c'è Dentro i vaccini Prima di difendere la teoria E la bufala Che vi è stata raccontata E in realtà Io lo so Secondo me E lei che non lo sa Noi crediamo Nella bufala Capito Non voi che credete A due testa De cazzo L'unico modo Per contrastare Questo Frenci Grazie per i tre mesi Di risalto Mi trova Mi fermate Padatina Obbedimento È trovare i medici Che falsifichano I libretti vaccinali Pure Questi si sono disposti A tutto Se tu non gli stai Appresso In i controlli Questi si trovano Un medico Che fa ste cose E poi tu te ritrovi Tu fio a scuola Insieme a altra gente Che non è stata vaccinata Capito E si ammala Per i cazzi E loro Capito Questa qua invece ha chiesto Salve a tutti Ho una domanda Se poi nella scuola Che frequenta vostro figlio Arrivasse il morbillo Voi che fate Lo vaccinate O correte il rischio Che si ammalie Sentite che hanno risposto a loro Gli faccio prendere il morbillo Giusto Beh ovvio Facciamo ammalare mio figlio Con un virus Che può lasciare anche Delle conseguenze permanenti Hanno un sistema immunitario Abbastanza allenato Eh perché fa palestra Il sistema immunitario Allenato Vedi il macrofago Che prende il bilanciere E fa Ehi linfocita T killer Vieni qua Prendi quel peso Ma che cazzo Possono superarlo Senza complicazioni Ne sono certa Sono positiva Ne sono positiva Secondo me Sono positiva Non è una cosa Che andrebbe detta Non devi essere positiva Devi essere certa Ma che sei il medico Che decidi te Che cazzo sei positiva I ragazzini morono Per morbillo Lei è positiva Capito E star 32 uguale Prende la malattia E si immunizza a vita Sì anche col bacino Si immunizza a vita Senza malattia Puoi fare auguri Alla mia fidanzata Si chiama Elisa Elisa Il sistema immunitario Fa 120 Su panca piana Grazie bella Pagatino Elisa Tanti auguri Di buon compleanno Grazie per decidi Pagatino O un saluto era Elisa ti mando un saluto Non un abbraccio Scusami Non mi ricordavo Qual era delle due Perdonami Ti prendi il morbillo E si immunizza tutta la vita Cioè tu c'hai la possibilità De non fa malato fio E te invece decidi Di metterlo al rischio Di ammalarsi Solo perché sei ecocentrico Cioè ma poi Con che coraggio Vai a guardarlo nell'occhi La volta che Porello Sta male a letto Solo perché tu hai deciso Che devi farlo sta male Mannaggia quanto Mi fanno incassare Ste cose Cioè la possibilità Invece di ritenerte fortunato De non fa malato fio Tu siccome sei ecocentrico Dici no Se deve sta male Perché se no Non sono contenti I bimbi di oggi Si beccano una bomba Chimico-biologica Senza pari A bomba chimico-biologica Questi veramente pensano Che c'è sta uranio E il plutonio Dentro i vaccini Quei vaccini Fanno le pombe H Ora le regioni Ci precluderanno i nidi E fanno bene Esiste l'homeschooling Sentite Non dobbiamo cedere Il sistema si trova Sono peggio le sci chimiche Quelle che le vecchie per forza Mannaggia la miseria No in realtà Se giri con un cappuccio Di alluminio Una maschera antigas E un giubbotto Da antiradiazione Perché poi questi qua Fanno i mix dei complotti Puoi anche non farlo Il modo Cioè avete letto quel termine Homeschooling E ora vi spiegherò meglio Farei un figlio solo per crescerlo vegano Sbattezzato e senza veleno in corpo Oddio farei un figlio solo per crescerlo vegano Lo crescerei nudo Sarebbe meglio che il figlio decida per i cazzi suoi In mezzo ai suoi fratelli animali Lo farei crescere nudo In mezzo ai suoi fratelli animali Ma che cazzo Ma signora Ma signora Ma che cazzo è Ma stavo andando a fanculo 4.000 anni di evoluzione Signora Ma come Scusi Sta spuntanando 4.000 anni Di progressi tecnologici Ma come è nudo In mezzo agli animali Poi quali animali Signora No Io per dire Jimmy grazie Benasami Nutraformate Fatino Quali animali Signora Scusi No Perché se lo metti nudo In mezzo alle pantere Secondo me Non dura molto Io lo dico Cioè questa qua è vegana Animalista E antivaccinista Pensate che rottura De coglioni Corporaci Che sta adorando Sposare Niente scuola Primo lavaggio del cervello Imposto dalla società Giusto Non istruiamo i bambini Non gli spieghiamo Non gli diamo istruzione Cultura Nozioni Rendiamoli completamente Analfabeti Senza conoscenza E' così che l'uomo Si è evoluto L'ho potuto E' proprio con questo sistema Che lei signora Sta usando un social Su un computer Grazie all'ignoranza Signora Signora Cancelli Sia almeno coerente Cancelli facebook Vada nel bosco E vada a fanculo Quindi insomma Per alcuni La soluzione a questo provvedimento Ma mi fa ridere Perché lo scrivono sul computer Cioè mi fa ridere Lo scrivono su un computer Cioè Proprio ipocriti al massimo Che via dei bambini Non vaccinati Di andare a scuola E' stata l'homeschooling E loro previscono Tenersi i figli a casa Piuttosto che vaccinarli Devono fare alternativi Per forza Però un conto E' che ti occupi Dei scivichimi Che te raggiata Un conto E' che metti in mezzo I bambini E' che pare che è tutto collegato Un complotto Tira l'altro E' come i ciliegie Cominci dei scivichimi Che arrivi ai vaccini Capito qual'è il problema Comunque vabbè Io spero che con questo video V'ho fatto capì Con chi ci aveva Ma che fa Per il Incazzatissimo Neurodrom Si vede che gli hanno scritto Gli hanno scritto D'entrato dei nomi incredibili Stai incazzato Stai incazzato Neurodrom Ora andiamo con Luce morente Pestiamo gente Merdo ho fatto la rima Raga Ma c'è oramai Ragazzi non si può più dire un cazzo Ragazzi Sono uno streamer completo Raga Sono uno streamer Comple